Grazie a tutti E' la mia sveglia quotidiana L'ha detto in italiano e per me è uno stile di vita E' ispirazione Eccezionale veramente E' il più figo del mondo L'ha detto in italiano per me è meglio di un babà E voi avete capito cosa è questa roba? E' cultura e soprattutto un momento di riflessione Cazzo a bestia L'ha detto in italiano Per me è la favola della buonanotte L'ha detto in italiano è la mia surfata in Inter quotidiana L'ha detto in italiano per me è una bella raccolta di racconti Ciò che trovi meglio è così Da scatenati E' una cagata pazzesca L'ha detto in italiano è per me fantasticare L'ha detto in italiano è la colonna sonora della mia vita Per me è fuori dalle righe Una bella storia Sapore, tenerezza, intelligenza e vivacità E' cultura alla portata di tutti Stupendo Stupendo Geniale 92 minuti di applausi Surtenta Buon Grazie � Grazie a tutti.